Ciao a tutti ragazzi, per questa video lezione vorrei trattare un argomento che è nel cuore di tutti, cioè come poter avere un buon rullo 2-2 utilizzando la tecnica del game. Intanto dobbiamo cominciare a vedere in che cosa consiste la tecnica del game, quindi del gioco. La tecnica deve essere sviluppata in questa maniera qua, innanzitutto prepararsi con l'impugnatura francese e quindi con il pollice rivolto verso l'alto e con la punta della bacchetta in giù a circa 10 cm dal pad allenatore. Il primo movimento della tecnica consiste nel abbassare la bacchetta in questa maniera qui e quando la punta della bacchetta tocca il pad allenatore o il rullante, ovviamente la pelle del rullante, aprire le dita tenendo sempre fermo il fulcro e permettere alla bacchetta di venire su in questa maniera qui. Come adesso vi faccio vedere. Ovviamente dovete scendere con l'avambraccio e portare il vostro dito indice più o meno all'altezza del bordo del rullante. Non preoccupatevi se le prime volte che lo fate la bacchetta torna indietro e vi colpisce, anzi, se per le prime volte la bacchetta torna indietro e vi colpisce il petto, è buon segno nel senso che vi state sforzando di lasciarla libera senza costrizioni del fulcro. Ovviamente man mano che acquisite la praticità la bloccherete in maniera verticale con le dita delle mani, così. La stessa cosa farete con la mano sinistra. Ecco, quello che volevo raccomandarvi è di non ruotare il polso, perché le prime volte che lo farete vi verrà quasi istintivo fare questo, cioè ruotare voi il polso in maniera errata, perché il polso deve rimanere così allineato con l'avambraccio e tutto deve avvenire qui, sul fulcro, come vi ho fatto appena vedere. Ok, fatto questo che è il primo step del game, andiamo al secondo. che è non meno importante, anzi forse più importante, assolutamente. Adesso vi spiegherò perché. Una volta che siete arrivati qua, avete completato il primo movimento, quindi col dito indice più o meno all'altezza del bordo del rullante, dovete risalire con l'avambraccio, chiudere con energia le dita, colpire l'allenatore e riportarvi in posizioni di partenza, in questa maniera qui. Adesso lo faremo con la mano sinistra. Ecco, adesso andiamo a fare il movimento completo invece, per ciascuna mano. Quindi... Ok. Una volta acquisita questa praticità, chiaramente, per ottenere il rullo, dobbiamo andare ad alternare le mani, quindi, perché il rullo appunto è chiamato 2-2, per questo, perché andremo a suonare due colpi con ciascuna mano. Allora, una cosa che voglio raccomandare assolutamente è di non perdere l'accento sulla seconda nota, cioè quando c'è la chiusura della mano. E il motivo è molto semplice. Se voi riuscirete a tenere questo accento sulla seconda nota, fino ad una velocità sostenuta, succederà che i colpi del rullo si sentiranno tutti alla stessa dinamica, e allora avrà un effetto molto 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 bello e importante. Diversamente, se non riuscirete a tenere l'accento sulla seconda nota, quando suonerete il rullo, otterrete l'effetto contrario, nel senso che l'accento sarà sempre sulla prima nota. E questo, invece, noi dobbiamo cercare di evitarlo, proprio per avere una dinamica omogenea. Adesso vi farò alcuni esempi. E questo, invece, noi dobbiamo cercare di fare un'accento, e quindi 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 noi dobbiamo cercare di fare un'accento, appena sentire il rullo non presentava accenti quindi si sentiva tutto in maniera molto molto omogenea questo fatto che abbiamo visto all'inizio e cioè il fatto di scendere con l'avambraccio poi di risalire vi permetterà di avere potenza qualora appunto vi servisse altrimenti se vi limiterete a studiare soltanto il game senza l'utilizzo dell'avambraccio cosa che comunque deve essere fatta anzi va a completare lo studio del game ma studiandolo soltanto in questa maniera non vi permetterebbe di avere un volume importante e nel momento in cui ce n'è di bisogno non sareste abituati a mettere gli avambracci e quindi a ottenere un volume molto alto piuttosto che sicuramente portando avanti questa tecnica e sviluppandola avrete un range di applicazioni molto ampio del rullo che potrete sicuramente applicare nel rock nel funk nel blues nella fusion nel jazz ovunque ne avrete ne avrete voglia quindi vi auguro buono studio scrivetemi se avete domande buona giornata a tutti alla prossima ciao